Le piogge continuano a non cadere, i livelli dei fiumi continuano ad abbassarsi, si aprono i pozzi, si moltiplicano le ordinanze comunali antispreco. E' questo il quadro di una siccità che anche sul territorio provinciale diventa allarmante ordinarietà di ogni estate. E allora vanno pensate soluzioni per trattenere e ottimizzare le acque e in questo senso va proprio la mozione depositata in Consiglio Comunale a Fano d'Azione Pi Europa che sul tema acqua nelle ultime settimane ha affrontato un focus a livello provinciale. Esiste un'edilizia capace di ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse, serve però una politica che vada incontro a questa innovazione incentivando l'efficientamento idrico. Il tema idrico è molto complesso, ci sono diversi metodi per intervenire e superire a questa emergenza nel breve, medio e lungo periodo. La nostra mozione è una mozione del Consiglio Comunale quindi va a incidere su quello in cui il Consiglio Comunale ha potere decisionale, anche una pubblica amministrazione urbana può ragionare, può incidere. Quindi noi proponiamo l'incentivazione di un'edilizia virtuosa dal punto di vista idrico. Ovviamente l'emergenza idrica va ragionata con nuovi invasi, con la pulizia degli invasi precedenti, la sistemazione delle reti. Insomma ci sono una serie di azioni che però sono a livello più territoriale, provinciale e regionale. A livello territoriale e urbano si può fare altro, si può incentivare un'edilizia sana, virtuosa. Se voi pensate che l'acqua che passa nelle nostre condotte è acqua potabile, noi andiamo al bagno, tiriamo il water e cosa succede? Buttiamo via 10 litri di acqua potabile. Per me è impensabile. Allora vogliamo incentivare un'edilizia che abbia una gestione dell'acqua più virtuosa, quindi magari il recupero delle acque al fine di poi usarle per gli utilizzi meno virtuosi, se vogliamo. Quindi l'acqua del water non è detto che debba essere potabile. Questo tipo di tecnologie ci sono da anni, sono state sviluppate. Sono state sviluppate grazie allo studio che ne hanno fatto paesi che sono sempre stati meno ricchi di acqua dell'Italia, perché l'Italia è stata sempre ricca d'acqua. Adesso abbiamo un'emergenza idrica, abbiamo tecnologie che sono state sviluppate, costa costruire in questo modo. Ecco che l'amministrazione comunale può aiutare a superire questi costi tramite bonus volumetrici o tramite lo sconto di oneri di urbanizzazione. Questi sconti, queste premialità erano previste per un'edilizia che rispettasse i canodi del protocollo Itaca. A Fano abbiamo levato queste premialità perché dopo 12 anni ormai non erano più all'avanguardia e possiamo introdurne di nuove per appunto migliorare quelle che è la gestione dell'acqua, perché ricordiamoci che l'acqua è il bene più prezioso che abbiamo.